Lui è Cotton, ha due mesi, è vaccinato, sverminato, spulciato, è bellissimo, ha un manto marmorizzato, guardate che disegni stupendi, è un gattino buonissimo, non esce mai le unghie, è stato abbandonato insieme ai suoi tre fratellini, con lui quattro erano, dentro un fustino del detersivo, una crudeltà inaudita, erano combinati malissimo, oggi sono dei gattini meravigliosi, e cercano casa, ma guardate che disegno!